La Guardia Costiera di Agropoli ha svolto un blitz tra il fiume Solofrone e l'Alento. I militari del nucleo di polizia giudiziare comandati dal tenente di vascello Giulio Cimmino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania hanno sottoposto a sequestro penale due impianti industriali per reati contro l'ambiente e a danno della salute pubblica. Il primo è uno stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi di circa 650 metri quadri dove venivano stoccati sul terreno rocce di scavo, plastiche, rifiuti ferrosi e calcestruzzi. Il secondo è un'azienda zootecnica di circa 80.000 metri quadri che ospita oltre 400 capi bufalini. Da due canali naturali di scolo venivano confluiti nel fiume Solofrone i rifiuti derivanti dagli effluenti zootecnici delle vasche di raccolta nonché scarti vegetali di vario genere.